Siamo qui alla partenza, come potete vedere siamo finalmente arrivati, la Salerno Reggio Calabria si è sbloccata. Salvatore Portera di nuovo in diretta, grande salvo. Totò c'è qua uno che ci stava tamponando, chi siamo tutti, quante dirette, chi ci sono? Massimo Nardo, Antonio vogliamo intonare? L'amica mia Simona Bellino c'è, ciao! Il Vercellotto, guarda che brutto, Vercelli è sempre brutto, guarda di pure Totò, invece guarda da me, il Vercelli è brutto. Vercelli, grande Vercelli. Ragazzi, siamo qua, siamo pronti, siamo pronti, ora facciamo questa diretta live in PS, c'è pure Danilo Maccagnano che ci segue. Grande Danilo! Ciao Danilo, ciao! Ciao Simona! Te di dove? Perché ora bisogna guidare, bisogna stersare. Lui adesso deve guidare, io a posto di fare il navigatore, guarderò, terrò il telefonino. Ecco, ok, via, fatta. Vediamo quello che è possibile fare. Qua arrivano messaggi, non si sa. Ma che dite voi, tiriamo freno a mano o no? Dobbiamo tirare sto freno a mano. Danilo Maccagnano, leggila che non vedo. Buon divertimento ragazzi, grazie per Danilo. Ma ormai resta in diretta, ti fai la prova con noi. Sì, fatti la prova con noi, almeno partecipi anche tu con noi. Dai che siamo qua. Per ora stiamo facendo lo check down, ora vediamo, è down, perché è proprio down. Giulia Gentile in diretta, grazie, ciao! Bellissimo Tindari! Ora vediamo come andrà la situazione. Ditemi voi se devo tirare freno a mano o no? Siamo di leva quest'oggi o no? Dottore, ma sotto... Per me sì! Ok. Divertimento puro oggi? Eh, qua vedo gente, si salutano, che fanno? Che dobbiamo fare? Combà! Ok, saluto, a me non mi saluti? Io al 3 intonerei il nostro canto. Aspetta, Vercelli, c'è che ha scritto? Scendi! Non lo so... È troppe persone che stanno scrivendo, oi! Vercelli, che ha scritto? Prima impara a mettere le marce. Minchia! Il pecorone ha parlato, il pecorone! Ciao ragazzi, grazie Giulia, ciao anche a te! Divertitevi, grazie! Eh, però, ragazzi, tutti insieme a fare questa diretta? Tutti insieme! Ci faremo in prova speciale anche una cantata, dico! Ah, ce la facciamo in prova speciale? Sì, in prova speciale è una bella cantata, ce la facciamo! Non vorrei che perdi la concentrazione! Nooo, è qua, ragazzi, dobbiamo andare! Poi, soprattutto, c'è quello che ha fatto la storia davanti! Eh, sì, abbiamo la storia davanti! La geografia dietro! Eh, il signor Gibella è passato! Il signor Gibella! Tante belle cose! Ragazzi, ora... Per ora stavi guardando noi in faccia, ora poi giriamo la... Sì, poi giriamo la telecamera! Giriamo la telecamera, vediamo un po' com'è la situazione quest'oggi! Eh, vediamo il da farsi! Manca Marino, Marino ancora non si è fatto sentire! Marino, dove sei? Manca tu, Marino! La tua presenza! Domani ti aspettiamo con le brache calate in pista! Eh! Ragazzi, qui fa freddo! Com'è? Fa freddo qua, oi! Ci siamo quasi, eh! Ci siamo quasi! Tra poco partiamo! Stia partendo quello che ha fatto la storia, ragazzi! Voglio vedere chi sta partendo! Sì, ecco! Ok, ragazzi, dai, altre due macchine e partiamo noi! Si può sapere dove siete? Eh! Dove siamo? Fattelo dire da Antonio dove siamo! Ma raga al muto, ragazzi! Raga al muto siamo! Stiamo facendo ormai questa gara di fine anno, vediamo come va! Proviamo questa RS Lite! Vediamo se il prossimo anno possiamo fare qualcosa! Ma qua siamo ragazzi! Ma ora vediamo quello che dobbiamo fare! C'è abbastanza fila! C'è l'apico mio, la! Gira il telefono, fa la saluta, saluta! Siamo in diretta! Siamo in diretta! E poi dobbiamo partire, mi sa che devi girare la telecamera! Sì, aspetta che ora giro la telecamera! Inversione della telecamera! Sì, aspetta che ora giro la telecamera! Sì, aspetta che ora giro la telecamera! E' a caso, giumba! Saluti dalla pista di Re Calmuto, in diretta! Signor Pandamichi, grande! Ci vediamo dopo! Pandamichi! Ragazzi, qua siamo! Ci siamo? E aspetta, sta andando a spingere l'amico là che si è girato! Ops, si è girato uno! Niente, a posto, tutto ok! Quando la intoniamo, la canzone, me lo dici tu? E ora, quando vuoi tu! Quando vuoi tu? E quando dici tu! Per me pure ora! Vai, vai, l'attacco! Vai ragazzi! Vai, si parte! E uno, e due, e tre! Oh, gomme fredde, Antonio! Occhio! Vai, Antonio! Moto, entriamo? Eh? Non vedo un cazzo! Non vedo manco io! Sarà perché ti amo! E' un'emozione! Che sale piano piano! Tingimi forte! E stammi più vicino! Se mi sto bene! Sarà perché ti amo! E vola, vola con me! Es che più in alto si va! e vola vola con me oh cio cio la chicane eh Maria occhio a questa chicane che chiude numero vai ragazzi doppio zero doppio zero destra a quattro vai metti la quarta piano piano vai ragazzi chicane dai è entrata a destra diretta da Natale bandiera gialla vai Antonio chicane bandiera gialla c'è uno fermo oh cazzo oh 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 freno a mano non ha tirato stavolta vai pieno pieno 150 e stacca inversione vai così mi piace col freno a mano mi piace col freno a mano ricorda sopra che chiude come le senti le gomme come le senti le gomme buone ricorda che questa è l'ultima chiude vai ragazzi ragazzi siete in diretta con noi E vai E vai pure quest'altra Dico è il primo giro che facciamo in pista Questa mattina siamo arrivati tardi E lo state godendo con noi questo giro? Vai ragazzi Vai Staccala Vai così, bravo Gira l'altra Alla prossima dobbiamo uscire Va bene Vai e vai Vai così Antonio Grande Cominci a capire la pista Vai ecco dobbiamo uscire e abbiamo finito ragazzi abbiamo finito questo altro giro ragazzi abbiamo fatto questi due giri con Antonio com'è andata? e quindi ci fermiamo ci riposiamo ci vediamo dopo ragazzi ora poi dopo faremo un'altra diretta si dopo ci rivediamo grazie a tutti per la compagnia grazie, ciao ciao ragazzi sarà perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano stringimi forte e stammi più vicino e se sto bene sarà perché ti amo e vola vola si sa sempre il pen alto si va e vola vola con me è un'emozione è un'emozione hai cantato tu lui grazie grazie a très Grazie a tutti.